Certo, non credo, è finito in orto che credo a comuni si impattano perché tutti i colleghi amano in sav arbezza, non credo che possono chci кожilare, leggere, leggere, leggere e leggere, leggere e leggere e leggere non ci sarò più o culo per la vostra, per la vostra, per le luci, e come intendo inciascola per la vostra, per la vostra, alla... e al di niente, non mi vuole più indirizzare E' calente con la borsa E' l'ultimo con il culo E' calente con la borsa E' un risasso Non sia l'ultimo Con l'ultimo con il culo E' calente